Il doppio appuntamento con Il Segreto si rinnova oggi, martedì 20 novembre. La sop'opera spagnola vi aspetta alle 16 20 su Canale 5 e alle 21,20 su Rete 4 con una puntata serale ricca di colpi di scena Dai primi spoiler si sa che i protagonisti saranno Alfonso e Irene che saranno di fronte ad un video, entrambi, infatti, valuteranno la possibilità di lasciare Puente Veo, anche se per motivi diversi Se, infatti, il Castaneda comincerà a pensare di essere sempre di più un peso per Emilia, Irene riceverà un'importante proposta di lavoro Alfonso e Irene, dunque, lasceranno davvero il piccolo paese spagnolo? Il Segreto, la scelta di Alfono e Irene Alfonso Castaneda, di fronte all'atteggiamento di Emilia, sarà sempre più convinto che alla moglie sia accaduto qualcosa in carcere La donna, però, non riuscirà a raccontare al marito la verità che comincerà a pensare di essere un peso per Emilia Per liberarla, valuterà l'ipotesi di lasciare Puente Veo. Raimundo, però, dopo aver raccolto le sue impressioni, lo inviterà a non prendere decisioni azzardate Anche Irene dovrà decidere se lasciare o meno il paese. La donna, infatti, ha ricevuto un'importante proposta di lavoro che, però, non sa se accettare essendo innamorata di Severo che, informato della cosa da Adela, continuerà ad essere comunque freddo e distaccato nonostante sia innamorato di lei Il segreto, la proposta di Prudencia Sol.Puglieta Oriarte, in presenza del suo legale, ammetterà di essere la responsabile dell'omicidio di suo padre Ignacio La ragazza, però, ometterà alcuni dettagli. Nonostante tutto, l'avvocato deciderà di difenderla comunque Prudencio, nel frattempo, nella speranza di poter riconquistare la sua fiducia, si offrirà di pagare la cauzione per permetterla di lasciare il carcere in attesa della sentenza definitiva L'uomo, però, metterà Fuglieta di fronte ad una scelta, pagherà la cauzione solo se tornerà con lui La Oriarte, però, decisa e coraggiosa come sempre, non solo rifiuterà, ma l'offerirà nuovamente Raimundo, infine, riceverà una busta per il nome di Donna Francisca Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like